E' stato quello che avevamo prefigurato sin dall'inizio, una bellissima manifestazione, allegra, forte nei contenuti, piena di musica, di cultura. So che tra l'altro tanti abitanti di Pontida hanno accolto molto bene i terroni, quindi non è stata un'invasione culturale e pacifica, dimostrazione che noi siamo una terra che mette la vita, la solidarietà, l'accoglienza al centro del nostro agire. Quindi davvero un ringraziamento a tutti questi artisti, ai tanti abitanti e cittadini meridionali e non solo, che hanno partecipato a questa iniziativa, migliaia e migliaia di persone. Approfitto per dire che noi lanceremo nelle prossime ore è un concerto molto importante, il primo maggio, che parte da un progetto consolidato, Terroni Uniti, a cui aggiungerei Terroni Tutti il Mondo Unite e via Uniamoci. E' un progetto che sarà stabile, è stato inserito nel DUP del bilancio del Comune di Napoli, nel documento della programmazione, quindi è un progetto culturale. Sono centinaia di artisti impegnati nella giornata del primo maggio, dalle 16 fino a notte, tutti gratuitamente, in questo progetto che mette al centro lavoro, diritti, accoglienza, antirazzismo e sud del mondo. Quindi siamo davvero felici, è una prosecuzione di un viaggio che abbatte ogni confine, supera ogni confine e abbatte ogni mura, che da Pontida si sposta a Napoli col primo maggio. C'è un nome? No, faremo la conferenza stampa, faremo la conferenza stampa, no, non sono io l'organizzatore, faremo, ripeto, il gruppo fondante è quello di Pontida, ma ci sono anche molti altri, anche delle novità interessanti, sono centinaia, faremo la conferenza stampa dopo domani, credo mercoledì. Si parla di progetto stabile, vuol dire che c'è l'idea di fare un concertone a Napoli il primo maggio? Sempre. Sì, con la scorta di quello che si fa a Roma da... Sì, con le caratteristiche che ho però detto prima, soprattutto lavoro, diritti, accoglienza, antirazzismo, sud del mondo. Quindi sarà molto caratterizzato come il protagonismo dei popoli del sud, non solo sud Italia, non solo sud Europa, non solo Mediterraneo, ma quindi penso all'America Latina, a tutto ciò che viene dai sud e mai, lo voglio sottolineare, in contrapposizione con i popoli del nord. Cioè il nostro progetto è quello di costruire nuovi processi di armonia, di condivisione, di fratellanza e di solidarietà, valorizzando le differenze e sottolineando come il sud in questo momento è una grande risorsa umana, soprattutto per il pianeta. Quindi dobbiamo aspettarci i musicisti stranieri che vivono a Napoli? Sì, ci saranno, ripeto, non mi fate entrare, primo perché non sono io l'organizzatore effettivo, ma poi perché faremo una conferenza stampa? Posso solo dire che sono centinaia, quindi un programma davvero straordinario e voglio ringraziare perché stiamo avendo veramente una corsa da parte degli artisti a voler partecipare a questo progetto. Tra l'altro voglio sottolineare a titolo gratuito, quindi mi permetto di usare il termine di un progetto politico, con la P maiuscola, politico-culturale, quindi c'è un messaggio molto forte, non è solo concerto che già di per sé è una cosa straordinaria, ma ha una valenza politico-culturale più significativa, più forte.